Il danno e la beffa spesso si somano, anche in questa vicenda paradossale che ha toccato l'associazione Aiutiamoli a Vivere. 100 biciclette, un centriamo di biciclette, sono state rubate dal deposito di Santa Teresa di Spoltore. Erano biciclette destinate, sono destinate a popolazioni bisognose. Un gesto ignobile, lo ha definito il presidente Tuzio De Iuris. Sì, alla prima rabbia, indignazione, rabbia nera proprio del primo momento, ora è subentrato una serenità ma anche un rammarico forte, molto forte. Decine e decine di volontari avevano lavorato per raccogliere queste bici. Queste bici ci erano state donate dal comune di Artegna e dal comune di Gemona con l'impegno di tantissima gente. Le abbiamo portate qui, erano usate, però avevamo tutta una serie di attrezzature per sistemarle, pronte fra una ventina di giorni per partire per il Burund e il Ruanda. Certo, io credo che un fatto del genere, non potevo pensare che venissero rubate biciclette usate, insomma, con tutta la cattiveria che qualcuno può avere, non ci avrei mai pensato. Solo che quello che posso dire è che l'Abruzzo e Pescara non avevano bisogno di questo ennesimo esempio negativo. Aggiunto a quello della politica siamo veramente brutti. Tanto è vero che il messaggero Veneto ha dedicato una pagina intera, così anche come Tg.com. Strano, e questo è il più grande rammarico per me, strano che i politici di Pescara non abbiano sentito il dovere, almeno di una telefonata per dire ci dispiace, chissà quante biciclette usate ci saranno a Pescara, chiuso nei magazzini, ci pensiamo noi a lanciare un appello. Mi sarei aspettato questo, ma non è venuto, non fa niente, come sempre da tentranni, andremo avanti, prenderemo altre cose, porteremo tanto.